Gli argomenti più importanti in questa fase perché ci apprestiamo a vivere la stagione estiva sperando di aver lasciato alle spalle questo Covid, dannato Covid che però ancora oggi vedo il numero dei contagi è sempre alto, oltre 3 mila in Calabria, ci sono sei morti, però prima o poi dobbiamo immaginarci una quotidianità diversa, svincolata da questo peso, poi c'è la guerra, non dimentichiamoci, migliaia e migliaia di persone che lottano, che muoiono, sono due macigni che abbiamo addosso, ma dobbiamo sforzarci anche di guardare a domani con un pizzico di positività in più, andremo incontro alla stagione estiva e come sempre, come ogni anno, ci troviamo altri due argomenti che la Regione in questi giorni, in questi ultimi giorni sta cercando di risolvere con delle soluzioni che poi vedremo se messe in atto, cioè verificate sul campo, daranno le risposte che i cittadini si aspettano. Parliamo di mare e parliamo di depurazione, le due cose sono strettamente connesse e poi parliamo di ambiente, perché il futuro, anche economico di questa terra, passa dalla capacità che noi avremmo di salvaguardare l'ambiente e mi pare che da un po' di tempo a questa parte qualcosa non ha funzionato, se è vero come è vero che ci siamo lasciati un po' andare, abbiamo un po' abbandonato quelle che sono le nostre ricchezze naturali, noi siamo ricchi e non lo sappiamo. Cerchiamo di ottimizzare altre comparti che magari non ci danno la percezione che possa esserci un periodo di crescita e sviluppo e lasciamo da parte queste che sono temi centrali, quando parlo di mare, di ambiente parlo di turismo, chi più ne ha più ne metta, ma sono temi ampiamente dibattuti. Oggi parliamo di questo perché tra un po' la gente comincerà ad andare al mare, comincerà a dire ma è tutto a posto, funziona, che cosa c'è, cominceranno le foto, cominceranno i video, le lamentele perché c'è questa chiazza che accompagna la visione del nostro mare. Acqua è bellissima, non lo sappiamo, che cosa c'è, che cosa sta accadendo e ce lo facciamo spiegare oggi da un professore che stimo moltissimo, che è un profondo conoscitore di queste tematiche, già preside all'Università della Calabria, ingegnere Paolo Veltri, grazie per essere qui con me. Poi collegato e a casa col Covid, facciamo i migliori auguri, c'è Domenico Pappaterra che ha la responsabilità dell'ARPAC. A proposito del Covid, dopo le prime ore come procede? Mi sento completamente intronato, per fortuna non c'è febbre al momento, spero di non avere postumi più complicati, però è dura e quindi l'appello che facevi tu all'inizio lo faccio pure io, massima allerta e massima attenzione. Dobbiamo necessariamente stare attenti perché i contagi ci sono, sono quotidiani, poi al di là di quelli che sono ufficialmente censiti, ce n'è un altrettanto secondo me che si cura a casa, nel senso che si fa il tampone a casa e poi decide quando è negativo di tornare alla vita attiva, quindi non sono censiti. Poi abbiamo la responsabile regionale di Lega Ambiente, Anna Parretta, che saluto, grazie. A proposito, avete già cominciato a verificare qual è la situazione? No, devi attivare l'audio perché sennò non la sentiamo. Mi senti adesso? Sì, la sento. Salve a tutti i telespettatori, grazie per avermi invitato. Non abbiamo ancora iniziato perché Lega Ambiente, con la propria campagna Voletta Verde, che è la storica campagna di Lega Ambiente, inizia i propri monitoraggi generalmente nel luglio di ogni anno. Quindi attraverso questa campagna Lega Ambiente monitora le acque del paese, proprio per, del mare in particolare, oltre che le spiagge e le coste, proprio per documentare e denunciare abusi e inadempienze, soprattutto per quanto riguarda il sistema di depurazione. Ce ne sono di abusi. Oggi leggevo che sono stati controllati alcuni depuratori, sono stati segnalati alcune cose, insomma, nella normalità incalabile, diciamo. E poi, torno da lei tra un attimo, voglio salutare Anna Maria De Luca, Actionau, no? Questa si chiama così, l'associazione è responsabile nazionale di questa associazione. Actionau è l'evento che facciamo il 5 giugno per la giornata mondiale dell'ambiente, che appunto ricorda l'Assemblea di Stoccolma del 72. L'associazione si chiama ENO ed è una comunità globale di 192 paesi, io rappresento l'Italia, sì. È una bella responsabilità, ma poi del resto vive in Calabria, opera in Calabria, lavora in Calabria e vivendo in una località marina come per esempio Fuscaldo, si rende conto che la questione legata a mare e depurazione è costantemente, quotidianamente rappresentata dalla stampa sia scritta che parlata. Professor Paolo Veltri, possiamo dire che siamo alle solite o qualcosa sta cambiando? Ad assedermi a ciò che leggo sui giornali, a ciò che vedo già in questi mesi sulla costa, mi pare che non è cambiato nulla. Se non fosse una cosa seria ci sarebbe veramente da fare da farci quattro risate. Io ho portato con me una serie di copie di giornali che datano sin dal 2002, quindi sono passati vent'anni, con promesse di risoluzione del problema che se vuole dopo qualcuna di queste promesse le leggo e ogni volta sembra che noi dobbiamo scoprire come si dice l'acqua calda, come se non si sapesse che cos'è l'inquinamento, come se non si sapesse il valore che ha per la nostra regione una balneabilità di qualità, come se non si sapesse che le forze politiche su questa avrebbero dovuto e dovrebbero investire non dico soltanto tutti i soldi, ma investire le loro intelligenze, il loro tempo, la loro passione. Io invece ho l'impressione che anche, non posso giudicare questa giunta regionale perché è in piedi da poco tempo, però seguo questa materia da decenni e mi pare che hanno fatto a gara gli amministratori a fare ogni volta peggio di chi li ha precedenti. Faccio una domanda, ma in questa gestione del mare, secondo lei, che responsabilità hanno le amministrazioni locali? Le amministrazioni comunali hanno purtroppo delle responsabilità che si possono ascrivere a ragioni addirittura penali, nel senso che essendo l'inquinamento un reato penale, se nel loro territorio si verifica un qualcosa che turba l'equilibrio, produce inquinamento, ne rispondono davanti alla Procura della Repubblica. Ma è evidente che la vera responsabilità non può farsi ascrivere al comportamento dei singoli amministratori. Anche perché ci vogliono soldini per fare questo. Ci vogliono molti soldi e ci sono stati questi soldi. Sì, però alcuni hanno impegnato in cose diverse, hanno distratto questi fondi, lo dobbiamo usare tra virgolette, hanno impiegato questi fondi per fare anche altro, in periodi non estivi. Sì, sì, in periodi non estivi. Ma noi abbiamo avuto un regime commissariale in Calabria che è durato dieci anni, dal 1998 al 2008. Che cosa ha aggiunto? Ha creato, era la stagione, come si usa a dire, del grande e bello, dei grandi depuratori che è giusto che si facciano. Però la Calabria non è la Lombardia, non è la pianura padana dove è possibile accorpare facilmente tanti centri. La Calabria ha dei comuni, ne porto uno come esempio Acri. Valla a fare un unico depuratore per Acri. Quindi bisognava agire come si dice, di spada e di fioretto. Cioè un progetto equilibrato laddove è possibile accorpare, laddove è possibile lasciare invece... Voglio sentire adesso Mimmo Pappaterra. Da quando sei iniziato all'ARPACAL ha monitorato la situazione. Veniva da un periodo disastroso dal punto di vista proprio della gestione della nostra risorsa, che è il mare. Si è tentato di mettere insieme una serie di iniziative dicendo alle amministrazioni locali, vi diamo qualche soldino, aiutateci a rimettere in sesto l'elemento, come dire, di maggiore attrattiva per il turismo calabrese. Ora, che cosa sta accadendo? Possiamo, come dire, guardare con un po' di fiducia in più rispetto al passato o sono tali e tanti i problemi che bisognerà attendere davvero ancora molto molto tempo? Occhiuto diceva l'altro giorno, da novembre lavoreremo sulla questione mare. Stiamo lavorando da novembre sulla questione mare. Io credo, Attilio, che tu lo dicevi prima. Io sono dell'idea che bisogna guardare la problematica anche con una rinnovata fiducia. Ovviamente, come io ho avuto modo di dire, in tante circostanze non possiamo sicuramente dire che a luglio la situazione cambierà complessivamente. Però, tornando anche a quello che diceva prima il professore Veltri, che saluto, il presidente Paolo faceva riferimento a tutta una serie di prese di posizione degli anni passati che non hanno mai prodotto nulla. Questa volta, posso dirlo e me ne assumo, come dire, la responsabilità, si sta facendo sul serio. Perché le forze che si sono messe in campo, i soggetti istituzionali che ci stanno mettendo la faccia, non sono più appartenenti esclusivamente all'ambito politico. Quando tre procuratori della Repubblica, quello di Paola, quello di Lamezzo e quello di Vipo, le forze dell'ordine complessivamente, la Capitaneria di Porto, l'Arpacal, l'Istituto Scientifico Andondorne e ovviamente la Regione, mettono insieme una squadra poderosa per provare non solo a capire le ragioni di quello che accade nella stagione stiva, ma soprattutto come a trondeggiare quelle energie. Io credo che sia un vattinedito, ed è un vattinedito soprattutto che ce ne si sta occupando già da novembre. Noi abbiamo iniziato a Pizzo per iniziativa del procuratore Falvo di Vipo, lì abbiamo lanciato una prima idea. Non bastava solo la repressione, non bastava solo che il procuratore andassero a sequestrare gli impianti malfunzionanti, lo diceva prima il professore Velfi quando richiamava anche la responsabilità degli amministratori locali. Bisognava mettere in campo una forte azione di prevenzione. E qui non possiamo oggi dire cosa faremo. Io voglio dire quello che si sta facendo. In Calabria abbiamo scoperto, anche dai dati ufficiali che venivano fuori dai dati dell'ISPRA, che si smaltivano in Calabria 33 mila tonnellate di fanghi della depurazione, quando la Puglia ne smaltisce legalmente 330 mila. Sulla base di questo dato è stata messa in campo una poderosa azione di controllo e abbiamo riscontrato nel giro di pochissime settimane, con dei sopralluoghi e dei controlli mirati tra noi e le forze dell'ordine, che sono stoccati presso molti impianti quasi 30 mila tonnellate che stanno lì senza che nessuno li smaltisse. E non è un patto di demerito, anzi secondo me è di merito, che la Regione Calabria, il Presidente Occhiuto, dice ai sindaci vi do una mano io, se non avete voi le risorse lo farò io, però smaltiamo legalmente questi fanghi della depurazione e non sversiamoli illegalmente e illegittimamente a mare, andando ad inquinare ulteriormente il nostro mare. Questa non è una scelta che negli anni passati era stata fatta. La seconda questione che sta avvenendo fuori, avete visto in questi giorni, ci sono 3-4 operazioni, tu Attilio ne citavi una, poc'anzi quella che ha fatto la Procura di Vibri in queste ore, ma nei giorni scorsi c'è stata l'operazione DIP dei Carabinieri della nostra regione, insieme con i nostri tecnici e con quelli dell'Istituto Andondorn, nelle prossime ore le stesse operazioni saranno fatte nel Regine sulla costa Ionica, c'è ormai una nuova consapevolezza. Io questo oggi lo voglio affermare, nel senso che da questo punto di vista noi chiediamo che anche i cittadini però si rendano consapevoli che c'è una forte azione di contrasto in questo momento, soprattutto ha tutta una serie di illegittimità, perché quando si fanno queste verifiche, questi controlli e troviamo lavanderie industriali che scaricavano a mare direttamente, troviamo molte aziende agricole e noi sappiamo che gli scarti della lavorazione delle aziende agricole sono, Anna me lo può confermare che lei è esperta di questo, sono pesantemente inguinanti. Andate a vedere le condizioni di alcuni torrenti dove arrivano queste condotte abusive, allora non è un'operazione semplice, ecco perché chiudo questa parte del mio intervento a tiro dicendo una cosa, noi quest'anno abbiamo fatto una scelta che poi è stata condivisa dal Presidente della Regione, non possiamo occuparci di tutto il mare, sarebbe improponibile in pochi mesi risolvere il problema, come ha detto prima Paolo, di oltre 20 anni e abbiamo detto monitoriamo il tratto da Tortora a Nicotera, che è il tratto che in questo momento è quello dove ci sono maggiori problemi e maggiori criticità e quindi lì si sta facendo un'azione di forte monitoraggio di quello che sta accadendo. Quando chiudo dice nei giorni scorsi che persino alcune strutture pubbliche venute fuori da queste indagini che non collettano o non smaltiscono correttamente, ce la dice lunga su quello che è lo stato della condizione della nostra Regione, allora questa volta l'impressione che ho io, ma più che l'impressione, essendone come dire, direttamente coinvolgono, non siamo più agli annunci, qui si sta operando, anche nelle prossime ore vedrete che arriveranno ulteriori da altre zone della Calabria, ulteriori segnali di come il problema... Speriamo, speriamo, speriamo. Anna Parretta, voi avete sotto mano quelli che sono i dati che riguardano l'inquinamento di questa regione e richiamava prima Pappaterra le iniziative delle procure della Repubblica, perché altrimenti qui si rischia, come dire, di limitarsi a quella che... demandare, per esempio, alla procura della Repubblica di fare tutto, ma non è questo. Bisogna richiamare all'attenzione chi ha il compito di governare, di gestire, di amministrare, perché di questo si tratta. Noi troviamo sempre puntualmente le solite tabelle che voi preparate e sempre quelli sono i punti dolenti. Sempre lì è il problema, ma è possibile che in tutti questi anni non si sia intervenuto lì, non si sia fatto qualcosa per migliorare la situazione, per restituire ai cittadini, ai vacanzieri, il mare che tutti sogniamo. Perché capita che, per esempio, nel periodo di maggiore afflusso di vacanzieri è quasi impossibile fare il bagno. Esattamente. La Calabria infatti merita un mare pulito e i calabresi e i turisti meritano di avere acque cristalline. Troppo spesso interveniamo esclusivamente nella patologia attraverso l'intervento della magistratura e delle forze dell'ordine. Meritorio, assolutamente meritorio. Ma appunto nella patologia si interviene quando il danno ambientale è già compiuto. Di inchieste in questi anni ce ne sono state diverse, si sono moltiplicate a tutela dell'ambiente negli ultimi tempi, riscontrando l'esistenza di veri e propri sistemi criminali che generano l'inquinamento del mare e del territorio, soprattutto attraverso lo smaltimento illegale dei fanghi di depurazione, attraverso i controlli falsati, attraverso gli appalti illeciti. Però come diceva giustamente prima anche il professor Feltri, la mala repurazione delle acque reflue in Calabria è la perenne emergenza calabrese, insieme ad altre emergenze, i rifiuti, gli scarichi illegali, l'abusivismo edilizio, in particolare sulle coste. È unitamente anche al mancato completamento della rete fognaria, che è un altro problema enorme. Tutto questo a livello di depurazione costato finora all'Italia e continua a costare 25 miliardi di euro in termini di multe comunitarie a cui si aggiungono 30 milioni di euro ogni sei mesi fino alla risoluzione dei sistemi di depurazione. In tutto questo una parte importante è proprio relativa ai sistemi depurativi calabresi, cioè si calcola che ci sono 188 agglomerati urbani fuori norma. Tutto questo è noto, è noto da tempo. Una cosa che mi preme sottolineare è che se si va sul sito della regione Calabria, sulla banca dati depurazione, si scopre che il relativo sito è aggiornato ad aprile del 2019 e si scopre che la regione Calabria è ancora attualmente in procedura di infrazione comunitaria per oltre 130 depuratori. Ho segnato i dati, la procedura di infrazione 2004-2034 riguarda ancora 13 agglomerati e la procedura di infrazione del 2014-2059 venne 130 agglomerati urbani, tra cui spicca il capoluogo di regione Catanzaro. A proposito di Catanzaro e a proposito di mancata trasparenza anche dei dati per quanto riguarda associazioni cittadini, che è un dato rilevante, mi preme sottolineare che il legambiente per avere i dati relativi al depuratore di Catanzaro ha dovuto presentare un ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale a cui poi è seguito un ricorso per ottemperanza correlativa a nomina del commissario prefettizio. Quindi a distanza di quasi tre anni siamo finalmente riusciti ad avere i dati del depuratore di Catanzaro che comporta e continua a comportare grossi problemi per quanto riguarda l'inquinamento del mare. La fermo un attimo poi torno da lei. Voglio sentire adesso Anna Maria De Luca, ci siamo tu perché ci conosciamo da tempo, siamo anche colleghi. Ti sei occupata di mare tante volte, hai scritto anche di situazioni che in qualche modo hanno proiettato la Calabria all'attenzione nazionale per una serie di problemi non proprio edificanti. Che cosa hai percepito in questi anni? Partiamo dalla nave dei veleni a scendere, andare avanti. Hai percepito che nei cittadini è subentrata la necessità di un approccio culturale diverso rispetto all'ambiente o no? O siamo anche noi a dare il nostro contributo a fare in modo che le cose anziché migliorare peggiorino? Io ascoltando Elegambiente pensavo appunto che è come fare un salto indietro nel tempo. Mi sono occupata di questi temi quasi vent'anni fa e la difficoltà di ottenere i dati, la difficoltà di capire come si muove il sistema, la difficoltà di capire dov'è la verità, mi sembrano una costante rispetto al passato. Quindi per quanto riguarda la popolazione, io adesso ho un osservatorio diverso, guardo la società dalla scuola e mi sembra che siano in atto due fenomeni. Uno di rimozione del problema, basato forse su una sorta di rassegnazione, per cui la gente non si indigna più, non si scandalizza più, è normale che sia così. E dall'altro invece un idealismo crescente da parte dei giovani, dei ragazzi che sono a scuola e che si impegnano per l'ambiente, non solo a parole, ma anche io vedo quando disegnano i bambini, disegnano sempre la natura, disegnano il mare, disegnano il sole, disegnano, cioè resta questo grande amore per la natura e questo grande desiderio di vivere in un mondo che sia un mondo giusto per la nostra salute, perché poi alla fine parlare di ambiente significa non solo parlare di mafia, ma anche parlare di diritto alla salute. Quindi mi sembra che ci siano due fenomeni, una sorta di insabbiamento da parte degli adulti e una sorta di idealismo da parte dei giovani. Professore Vettri, io però ho sentito prima 188 agglomerati urbani non collegati alle telefoniari, ma dico io, ma come è possibile? È un amministratore locale, cioè come posso accettare una cosa del genere? Io prima di dare l'abitabilità, prima di dire ok, questo appartamento, questo stabile, questi stabili possono entrare nel circuito, no? Questo è un problema che indubbiamente esiste, esiste. Lei mi chiede come mai, la Calabria è il luogo in cui di disattenzioni giudiziarie ve ne sono abbastanza, però mi deve consentire di andare alla radice del problema, perché la costa tirrenica calabrese, ancor più di quella ionica, è stata oggetto, 40-50 anni fa, di una selvaggia occupazione di case, nell'idea che bastasse costruire cose vacanziere di qualità ma anche modesta, che costavano anche poco, senza curarsi dei servizi che sarebbero stati richiesti e necessari. Scalè è un esempio in questo, no? Scalè è un esempio, ma è tutta così, è tutta così, chi più chi meno. Questo fatto ha illuso i cittadini che era sufficiente avere la casa per poter godere di un mare pulito, per poter godere di una villeggiatura tranquilla. Ora non voglio farla lunga, ma è chiaro che questo saccheggio del territorio che c'è stato è stata la premessa a che certi fenomeni poi accadesse. I fenomeni sono sotto gli occhi di tutti, quindi non mi unirò alla denuncia che è stata fatta, ma perché è scontato che di denuncia si debba fare. Io credo che però noi dobbiamo ragionare cercando di capire di chi sono le responsabilità, non voglio chiamarle colpe. I sindaci sì, hanno la loro responsabilità, però i sindaci hanno poche, non li voglio difendere a priori, ma hanno poche strutture, non hanno personale, le rimesse finanziarie che venivano dal governo non ci sono più. E poi c'è una cosa fondamentale, caro direttore, sulla quale probabilmente se non ci mettiamo d'accordo il problema resterà irrisolto. Il mare è soltanto il ricevente di un insieme di acque sporche che attengono ad una normativa diversa da quella del mare ed è la normativa del cosiddetto servizio idrico integrato, che è quello che mette assieme acquedotti, fognature e depurazioni, che dovrebbe essere in capo, in capo significa gestite da un'unica struttura. Quello che è successo dal 1994 in capo a questa disposizione nazionale è bene non parlarne, perché bisognerebbe prendere gli amministratori della regione, che via via si sono succeduti, e portarli tutti a processo. Cioè hanno fatto fallire questo processo di gestione unificata. Il che ha creato questa grandissima confusione, chi gestisce i depuratori sono o gestiti poco o gestiti male. Quindi è inutile chiamare, e finisco questa premessa, poi magari se mi darà dopo un altro minuto per chiarire altre cose, è inutile chiamare in causa la magistratura, è giusto che la magistratura intervenga, è giusto che intervenga la Guardia di Finanza, ma il problema va risolto creando intanto dei depuratori controllati sufficienti e poi facendoli gestire. Manca la gestione. Il depuratore è un organismo complicato. Ma è in capo agli enti locali però, ai comuni. Doveva essere in capo a questo punto unico gestore regionale. Ma adesso ci siamo arrivati a questo, perché mi pare che stiamo andando verso questa direzione, perché fino ad oggi sono stati gestiti dai comuni. Ecco perché non giudico l'attuale giunta. Sono stati gestiti dai comuni. Mandiamo un po' di pubblicità e ci vediamo tra poco. Allora, torniamo in argomento. Vi ricordo stiamo parlando del mare, depurazione, abbiamo già ascoltato un po' di cose, già un'idea, spero a farsela i nostri telespettatori. Queste sono le immagini che ogni tanto ci mandano i nostri telespettatori e ci restituiscono sempre questa striscia che accompagna il naturale lavorio delle onde. C'è sempre questa chiazza. Mimmo Vappaterra. Diceva prima Anna Parretta, 188 agglomerati urbani non collegati alla rete fognaria. Come si fa ad immaginare di salvaguardare il nostro mare se la situazione è in questi termini? Poi le chiedo, ma quanti depuratori ci sono? Avevo letto qualcosa, non so se la memoria mi inganne fare 800 depuratori, tutte le coste, però di questi 800 depuratori pare il 30% o non funziona o funziona male. È così? Ma io devo confermarti questi dati, siamo più o meno nell'ordine delle cifre che tu indicavi. È partito un piano di investimenti che ovviamente per concretizzarsi avrà poi necessità dei tempi che sono legati alle procedure di gara, agli affidamenti di incarichi e quant'altro. Però da questo punto di vista, proprio al fine di superare le procedure di impreazione a cui faceva riferimento Anna Parretta, la Regione è corsa ai ripari con investimenti poderoni. Io devo aggiungere che cosa? Perché ripeto, sono riflessioni quelle che ho sentito fino a questo momento, tutte qualificate e ricche di valutazioni che non possono che condividersi. bisogna appunto, questo è il tema, correggere il tiro. Quando io prima ho chiamato in causa le procure, il loro lavoro, perché diceva Attilio guardate che anche i procuratori ci stanno mettendo la faccia, ma non in termini repressivi, proprio perché hanno capito che il problema lo si affronta alla radice oppure non si risolverà mai. Io vi potrei dare i dati, noi dal primo aprile abbiamo iniziato i dati e stiamo facendo tutti i monitoraggi per la campagna di balneazione, perché noi il primo giugno come Arpaga dovremo consegnare alla Regione i dati. I dati che ci sono in questo periodo sono dati che ci consegnano un mare straordinario e bellissimo della nostra terra. Il problema è che come dicevate voi, anche tu Attilio, quando si entra nella stagione piena e aprono i grandi villaggi e aprono le grandi attività, quando sostanzialmente si mettono dall'entroterra, perché il tema non è solo la rete depurativa costiera, guardate che sul Tirreno Cosentino e su quello Lamettino e su quello Vibonese arrivano dall'interno decine e decine di scarichi, spesso di comuni in cui spesso manca persino il collettamento fognale in alcuni casi. È del tutto evidente che a mare arriva di tutto e di più. Noi stiamo facendo un'azione con alcuni droni per provare a monitorare tutte le aste puviale, l'abbiamo fatto sul fiume Oliva, lo stiamo facendo nel Mesima, però guardate che quello che accade è davvero raccapricciante. Ecco perché, come ho detto prima, la regione ha deciso di prendere quest'anno e monitorare soprattutto questa parte che è la più critica, come diceva il professore Vecchio. Quello che succede nel Tirreno Cosentino da giugno e da luglio in poi, ci sono impianti che sono tarati al massimo se funzionano correttamente per spalpire le acque Replo di 5.000 abitanti. Ma se a Scalea ne arrivano 200.000 o in altre parti è tutto più complicato. Ed ecco perché bisogna intervenire sul sistema impiantistico, bisogna intervenire nel controllo di tutte le aste puviali interne. Quello che accade dall'interno va monitorato di più e vanno aiutati anche i comuni interni a realizzare meglio gli impianti più adeguati e maggiormente funzionali. Terza questione, c'è un altro fenomeno che accadeva e io mi auguro che quest'estate non accada perché anche su questo si stanno adottando il Presidente, immagino che farà un'ordinanza apposita, ma gli autospurgo. Quanti impianti, quanti villaggi ci sono con la rete fognaria addirittura sotto la rete di collegamento agli impianti di depurazione e lì dovrebbero spurgare poi correttamente queste scariche. Ma questo non avviene perché noi sappiamo che spesso, soprattutto di notte, gli autospurgo scaricano illegalmente. Abbiamo suggerito al Presidente della Regione nel periodo estivo di fare delle ordinanze che impediscano agli autospurgo di girare di notte. Quindi ci sono una serie di azioni che vanno messe in campo e soprattutto, come ho detto prima, provare a, come l'avete detto voi, tutte queste realtà che non sono collettate vanno sicuramente collettate agli impianti alla rete di depurazione che siano funzionanti. E poi sui fanghi della depurazione, l'ho detto prima, in questo momento la Regione ha impegnato quasi 3 milioni per cercare di aiutare i comuni dove sono stati individuati, dove sono stoccati quasi 23 mila tonnellate di fanghi della depurazione e saranno aiutati a smaltirli legalmente in impianti funzionanti, non che vengono sversati a mare, perché poi questo è quello che accade. E lo diceva prima Anna. Voglio sentire adesso Anna Parretta, ma questi, secondo quella che è la vostra indagine costante, continua, questi impianti di depurazione, i quali è dotata questa Regione, ma funzionano, sono attivi, riescono a svolgere il lavoro per i quali sono stati messi nel territorio? Allora, lo dicevo prima e lo diceva anche il dottor Pappaterra, gli impianti di depurazione non sono idonei e non sono sufficienti. Il problema, che ormai è diventato un problema cronico e strutturale per la Calabria, deve essere assolutamente affrontato non soltanto da parte della magistratura, ma anche e soprattutto in un'ottica di prevenzione e di programmazione, con interventi per efficientare tutto il sistema della depurazione e adottando controlli pubblici, puntuali e stringenti per evitare le fortissime illegalità a tutela del mare e della salute delle persone. Noi di Lega Ambiente lo puntualizziamo ogni anno nei nostri report, Eco Mafia, ma anche altri report come Mare Monstrum. Attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza che la nostra associazione ha presentato al governo Draghi, un piano alternativo, noi tra le priorità per la Calabria abbiamo proprio inserito la costruzione di nuovi depuratori e l'efficientamento di quelli esistenti nell'ambito dei 69 miliardi di euro previsti dalla cosiddetta rivoluzione verde e transizione ecologica. Quindi, come diceva il dottor Pappaterra, sembra che qualcosa si stia muovendo e non è soltanto una questione di fondi. Io ricordo benissimo che l'assessore De Caprio già lo scorso anno parlava di 165 milioni di euro destinati alla depurazione, il Presidente Occhiuto ha parlato di fondi consistenti e delle iniziative sono state messe in campo. Però si tratta di problemi noti e di una malaggestione che si trascina nel tempo. Nel nostro piccolo Lega Ambiente Calabria aveva già presentato diversi anni fa dei dossier che mettevano proprio l'accento non soltanto sulla maledipurazione ma sul problema proprio dello smaltimento dei fanghi che è uno dei problemi principali, un problema che è stato rilevato ampiamente ed è balzato agli onori delle cronache proprio con l'inchiesta DIP del marzo del 2022. Ad esempio noi abbiamo avanzato delle proposte che non so se sono in procinto di essere recepite per cui le rilancio come quello di staccare, separare la gestione degli impianti dalla gestione dei fanghi che ricorda un costo di smaltimento rilevante proprio per evitare le legalità ambientali e proprio per evitare che poi questi fanghi per evitare i relativi costi vengano sversati direttamente in mare con i gravissimi danni conseguenti per l'ambiente, per il mare e per la salute delle persone. Esatto, professor Vetti ma chiariamo questa cosa, ma il mare calabrese è sporco o inquinato? Il mare calabrese ha una sporcizia di origine organica, quindi come chiamiamolo anche inquinamento, ma l'inquinamento organico è cosa ben diversa dall'inquinamento per esempio di natura di petrolio, o di altri tipi di inquinamento che provengono all'interno del mare stesso, che potrebbe essere che so, un incidente a mare e porta sotto costa le sostanze inquinate. Ed essendo quindi un inquinamento di origine organica si può debellare, non solo si deve debellare, si può debellare. Dicevo prima, noi dobbiamo andare alla radice del problema perché se continuiamo a fare denunce tutti i depuratori non funzionano qui, altri non funzionano lì. Io voglio ricordarle direttore che in questa sala sei anni fa fui ospitato da lei provenendo dalla regione. Eravamo state chiamati, io un collega universitario dalla regione per una audizione. Ci fecero delle domande, più o meno come quelle che si stanno dibattendo oggi, su quale fosse l'origine del mare inquinato, su quale problema si poteva affrontare per prima e per dopo, chi doveva fare queste cose. Devo dire che le domande che ci vennero fatte in questa audizione del Consiglio regionale le definimmo raccapriccianti, nel senso che rappresentavano una realtà di intendimento del fenomeno da parte di chi doveva risolverlo, assolutamente puerile. Alla fine di quell'audizione scrivemmo una relazione che inviammo alla regione Calabria indicando una serie di cose che sono quelle che stiamo sentendo adesso, né più né meno, proponendo un progetto di poco più di 300 mila euro per l'università, mica per le persone che erano lì, che avremmo fatto la radiografia completa di tutti i depuratori della Calabria con una particolare focus su quelli della costa. Non avemmo risposta, non avemmo alcune ore, eppure eravamo stati chiamati, non è che ce l'avamo proposto. Ma i depuratori della costa, perché naturalmente per avviare questo studio già una veduta di insieme, l'avevate già. Hai voglia se l'avevamo già? Funziona, non funziona? Allora, cominciamo col dire che non è vero che sono tutti sottodimensionati, non è vero. Alcuni sono dimensionati per una popolazione sicuramente estiva, quindi comprensiva anche del carico turistico. Altri hanno bisogno invece di un rafforzamento. Ciò che non funziona, però, torno a dirlo, è la gestione. Perché di bene non funziona, non vengono accessi. Perché di bene non funziona. Poi sono degli organismi che funzionano attraverso reazioni di tipo antiologico. Anche perché depurare costa. E' certo che costa depurare. Intanto siamo sulla costa, quindi bisogna pompare, usare le pompe per portare a quota più elevata, quota alla quale sono posti i depuratori, questi li quadri. E quindi se le pompe poi vanno fuori uso, ed è facile che una pompa possa andare fuori uso, se la pompa si rompe, se i possetti sono intasati. Chi li va a vedere queste cose se non c'è una gestione? Ma non devono essere i comuni a gestire questo? Ma ai comuni gli è stata impropriamente affidata questa cosa. E ho capito, però potevano dire guardate che non ce la facciamo. E non ce la fanno, è palese che non ce la fanno. Ci dovrebbe essere l'unico organismo di gestione che la legge 3694, la legge Galli, aveva prefigurato in maniera chiara e che la regione Calabria sistematicamente disattesa. Io ho l'impressione, non ho dati concreti, è solo un'impressione che forse alcuni depuratori vengono messi in funzione solo nei mesi di giugno, luglio, agosto. E peraltro hanno bisogno di un certo tempo per andare a regime, perché funzionano attraverso meccanismi biologici che non si possono attivare all'ultimo momento. Poi c'è il problema, che è stato detto più volte, del controllo dei fanghi della depurazione e di ciò che sono le vasche settiche, le vasche Imov. Bisognerebbe avere un controllo davvero rigorosissimo di che fine fanno questi... Lo smaltimento dei fanghi è una cosa seria. È una cosa serissima, basti dare un numero. L'ordine, se si misura con un parametro che non sto a dire adesso qual è, perché interessa poco, il tasso di inquinamento di questi fanghi, di questi liquami che vengono dalle vasche settiche rispetto ad un normale liquido di fognatura è di ordini di grandezza superiore, ovvero sia 500 a 1, quindi un litro di queste sostanze è più inquinato 500 volte in più di un litro di fognatura, che è già di per sé inquinante. Quindi se tu non fai la depurazione, non fai il controllo, non sai come smaltire i fanghi e in più aggiungi alcuni interi agglomerati urbani non collegati alla rete fognaria, il risultato non può che essere questo. Mettili assieme tutti questi, quindi non si può dire chi è l'imputato. L'imputato sì, è un imputato che è un soggetto fatto di persone, ma quale sia l'aspetto materiale... Poi arrivano questi camioncini, spulgano a mare e la cosa è fatta, cioè non l'avremo mai un mare pulito. Anna Maria, ti chiedo, so che non vuoi parlarne, però durante le tue inchieste legate proprio anche alla famosa storia dei navi, dei veleni, a che punto si è giunti poi? Punto morto? L'ultimo atto è stato che Costa, da ministro prima del Covid, annunciò l'intenzione di riaprire il caso mettendoci su parecchi soldi. Poi con il Covid non se ne è parlato più. L'inchiesta non è chiusa, palesemente non è chiusa, perché è facile insabbiare quando l'insabbiamento parte dall'alto e gli altri devono, anche i giornalisti, devono tacere... Ti ricordi in quel periodo chi parlerà delle navi verrà denunciato, chi parlerà... Era facile risolvere con una frase, ma basta incrociare i tumori con i posti dove queste navi si trovano, dove questi rifiuti sono stati interrati, quindi non solo in mare ma anche a terra. Basti pensare ad Amantea, alla collina sopra il Fiume Oliva, tutti i casi di tumore che su quella collina sono in numero superiore alla media. Però, ad onore del vero, tutte le inchieste che sono state fatte su questo non hanno portato praticamente a nulla. Ma allora la Calabria è stata un pezzettino di terra abbandonata a se stessa per decenni, dove non esisteva neanche lo Stato, dove non esistevano neanche le procure realmente, messe dentro un calderone internazionale di interessi tra Stati. Quello era un commercio internazionale, dove possiamo buttarle? In Africa o in Calabria, che all'epoca era più o meno come il traffico d'armi, quindi c'è che le navi del mare, che siano piene di armi, che siano piene di rifiuti, che siano piene di droga, continuano ad essere uno dei più grandi fatturati delle mafie in tutto il mondo. Questo è un dato di fatto, quindi non possiamo non dire che il problema non c'è. Ilaria Alpi c'è anche morta sopra questa inchiesta. Non c'è dubbio che il problema ci sia. Il punto è dove sono. Lega Ambiente ha un dossier di, mi pare, più di 300 navi affondate in tutto il mondo, non solo in Calabria, con le coordinate precise. Ma è chiaro che le coordinate dell'affondamento chi le dà? Il capitano. Ora, il problema è, c'è qualcuno che le vuole andare a trovare? C'è veramente la motivazione di trovarle? Quanto costa tirarle su? Conviene tenerle giù come spesso? Perché se ragioniamo in termini di economia, è chiaro che conviene non fare nulla. Io, Attilio, pensavo che con il Covid andassimo incontro ad una rivoluzione umana. Cioè, il mondo è sempre stato governato dall'economia. Il Covid ci ha dimostrato che tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se ti ammali, muori. Allora, il discorso che va a fare sull'ambiente è questo. Ambiente uguale a salute. Se noi continuiamo a trattare l'ambiente in questo caso, ci estingueremo come specie umana. Cioè, i ghiacciai si stanno sciogliendo, la temperatura della terra sta salendo. Cioè, questo è un processo irreversibile. Cioè, l'agenda 2030 deve essere la nostra guida. Noi su questo dobbiamo... Cioè, sentire che ancora oggi la politica si arrovella su dove stanno, dove il depuratore funziona, non funziona il mare. Cioè, il tema è che noi dobbiamo seguire l'agenda 2030 insieme a tutti gli altri paesi. Se no, altro che Putin. Ti fermo, ti fermo un attimo. Devo solo dire una cosa. Sì, perché voglio... Solo per carità, non voglio sottrarre tema. Congordo totalmente. Voglio dire da questa televisione che il Museo dei Brucci e degli Enotri di Cosenza si è attivato in questi ultimi periodi per una serie di iniziative in questa direzione. È iniziato il giorno della terra, il 22 di aprile, un ciclo di seminari. La terra è un pianeta in prestito. L'ecologia è un paradigma. Il prossimo appuntamento, Attilio, segnalo anche tu, vedi di venirci a trovare, sarà il 3 maggio al Museo dei Brucci e degli Enotri. Allora, adesso voglio parlare con Mimmo Pappaterra. Intanto, l'ARPACA l'avrà già avviato l'analisi conoscitiva di quella che è la salute del nostro mare. Quindi, come si sta muovendo, come si muoverà. Secondo punto, leggo anche dai messaggi che arrivano ai nostri telespettatori, perché magari non si pensa a indire delle gare con la possibilità di costruire dei depuratori di ultima generazione con la tecnologia avanzata. Terzo passaggio che chiedono ai nostri telespettatori, se la gestione dei depuratori possa in qualche modo, della gestione possa in qualche modo essere investite anche le province. queste sono le domande che arrivano da casa. Sì, parto dalla seconda, diciamo. Io pure concordo sul fatto che bisognerebbe utilizzare molto le nuove tecnologie che sono messe oggi a disposizione. Per esempio, noi nel caso nostro, fino ad oggi, le attività di prelieve e di controllo bisognava farle direttamente sul campo. Noi proprio in questo ultimo periodo abbiamo messo in campo un progetto che ha sostanzialmente fissato e piazzato su 90 impianti di depurazione, soprattutto sull'asse costiero, mettendo in campo degli autocampionatori per cui noi stiamo nelle condizioni, stiamo nella fase di collato di questi impianti. Noi saremo nelle condizioni da qui ad un mese di lanciare i campionamenti da remoto. E questa è una grande novità, non solo perché consente poi di recuperare i dati con più immediatezza, ma anche infine di evitare che qualcuno possa sapere prima che viene fatto il controllo. In questo caso il controllo sarà veramente coperto da ogni possibilità di poter essere comunicato preventivamente a qualcuno. Faccio questo riferimento perché sapete benissimo quello che è successo anche tempo fa, soprattutto sulla costa tirrenica. Seconda cosa, concordo sul fatto che bisognerebbe dotare questi impianti sicuramente di strutture diverse, insomma alcune attività che potrebbero servire per monitorare meglio gli inguinanti che appunto sono dentro questa rete di impianti. E c'è un altro problema, Attilio, che vorrei sottolineare. Su questo le tecnologie oggi ce le mettono a disposizione. Per esempio piazzare delle telecamere subacquee per verificare quello che accade con le condotte marine, perché anche lì c'è un altro grande problema. Ci sono tantissime condotte a mare che spesso, come dire, anche quelle andrebbero monitorate diversamente. Sulla questione delle province, le province hanno la titolarità per quanto riguarda il controllo delle acque reple, nel senso che sono le depositarie finali delle autorizzazioni. C'è un lavoro corale che noi facciamo insieme alle province che sono già pienamente coinvolte. Poi con riferimento alla provincia di Cosenza, proprio ultimamente, insieme all'ex presidente Iacucci e all'Associazione Mare Pulito, abbiamo sottostritto un protocollo per monitorare queste azioni e queste attività. L'ultima cosa arriva alla tua prima domanda. Lo dicevo prima. In questo momento noi stiamo facendo la campagna di balneazione. Ovviamente in questo caso noi monitoriamo due parametri che sono legati soprattutto ai temi della salute che prima venivano giustamente richiamati. Sono i dati che noi forniamo alla Regione e al Ministero della Salute perché a giugno, il primo giugno, inizia la stagione balneare e la Regione deve pubblicare quali sono le zone dove si può esercitare la balneazione e quelle per le quali ne viene fatto di vieto. In questo momento io potrei dare dei dati che sono parziali, ma oltre il 94-95% della nostra grandissima e straordinaria costa presenta dei risultati che sono assolutamente formidabili. Il tema, torno prima, è quello che fra poco alle foci dei fiumi, dove Goletta Verde spesso va a fare i prelievi a luglio, come ricordava prima Anna Parretta, in prossimità dei porti, in altre situazioni dove, ripeto, permangono queste situazioni di scarichi abusivi e importanti. Prima il professore Veltri diceva quante situazioni sono collocate addirittura sotto la rete dei depuratori e quindi lì andrebbero tutte queste acque sollevate. Spesso questo non accade ed ecco perché gli sversamenti avvengono e soprattutto nel periodo estivo questo accade di più perché c'è una presenza tale. E c'è l'ultimo problema, Attilio fammelo dire perché ne avete discusso prima col professore Veltri, quello dei costi. Anche su questo, guardate, io non pare di tutto un erbo un bacio, perché ci sono sindaci che sono bravissimi nel gestire i loro impianti. Anche stamattina, quando la procura di Vibo ha fatto l'ultima azione di monitoraggio e di controllo, come avete visto, 3-4 impianti nella loro provincia rispetto a quelli monitorati erano perfettamente... Ma non abbiamo generalizzato però, assolutamente, perché ci sono esempi importanti di amministratori che lavorano bene. No, non c'è dubbio. Per questo dicevo, noi dobbiamo, secondo me, valorizzare quello che già oggi c'è in campo. Ci sono nella rete degli impianti di operazione calabresi tantissimi impianti che vengono gestiti in maniera corretta perché i comuni, i sindaci, le risorse che indroitano anche dei cittadini li mettono a disposizione per una gestione corretta. Devo mandare la pubblicità, ci vediamo tra poco. Mando subito la pubblicità, ci vediamo tra poco in studio, per l'ultima parte. Allora, torniamo in onda all'ultima parte di trasmissione. Voglio chiamare subito Anna Parretta in collegamento. Allora, questa questione del mare, questa questione del turismo, ce la portiamo dietro da anni. Ricordo nel 2005, se la memoria non mi inganna, Loiero scrisse una lettera aperta al Corriere della Sera chiedendo scusa ai cittadini che ebbero la sventura di scegliere la nostra regione per trascorrere un breve periodo di vacanza. Passarono gli anni, al governo c'era Oliverio, Oliverio disse che presto costruiremo, anzi, le nostre iniziative porteranno ad avere un mare limpido e parlò addirittura di mare da bere. Ora, sappiamo che se bevi l'acqua del mare così come è combinata, come minimo ti ricoverano se non muore del tutto. Quindi, altro che mare da bere. Anna? È proprio così. Puntualmente ogni anno ci arrivano segnalazioni allarmate da parte dei cittadini proprio sullo stato di balneabilità delle acque. Noi speriamo veramente che tutto questo possa cambiare presto e che vi sia sufficiente consapevolezza, perché appunto non ve ne è assolutamente abbastanza, veniva ricordato prima, sull'importanza dei temi ambientali per la nostra vita e nel caso specifico sull'importanza di un mare pulito per l'ambiente, per la salute dei cittadini e anche per l'economia turistica, che è un'economia importantissima per la nostra regione. Quindi noi di Lega Ambiente svolgiamo un'opera di sensibilizzazione e di denuncia. Facciamo questo, cioè non possiamo sostituirci a quelli che sono i controlli da parte delle autorità preposte, in particolare dell'ARPACAL. Quindi semplicemente segnaliamo le situazioni critiche che poi si protraggono e continuano nel corso degli anni. Mi veniva in mente, alla luce di quello che veniva detto prima, che nell'ambito della campagna Coletta Verde, ad esempio, noi troviamo puntualmente, fortemente inquinato, un punto che si colloca a Isola Caporizzuto, a destra della Fortezza Aragonese. Sempre lo stesso punto. Nonostante le nostre segnalazioni, la situazione non cambia negli anni. Ecco, questa è una cosa su cui bisogna intervenire, su cui le amministrazioni hanno fortissime responsabilità. Quindi noi, appunto, come associazione di volontari, predisponiamo i dossier, monitoriamo, sensibilizziamo, facciamo campagne e cerchiamo di spronare le amministrazioni. Però ci vuole il contributo di tutti, a partire dalle istituzioni e dalla politica che devono avere a cuore l'interesse collettivo ed il bene comune. Quindi noi continuiamo a chiedere, non ci fermeremmo veramente mai, come recitava il nostro slogan dell'anno scorso, di chiedere a tutte le autorità preposte di avere una visione strategica sul futuro e di utilizzare le risorse pubbliche, perché appunto non è soltanto una questione di fondi per migliorare la situazione della depurazione. Continuate a martellare, a vigilare, a vedere e a denunciare. Anna Maria De Luca, questa coscienza civica che purtroppo ci manca, ci è mancata negli anni e ci ha restituito una regione che avrebbe le carte in regola per essere ambita, sia al punto di vista turistico, che è culturale. Noi siamo così. Quello che appartiene alla collettività per noi non appartiene a nessuno, come se per il pezzettino. Noi come Eno stiamo lavorando molto nelle scuole, infatti vorrei fare un appello a tutte le scuole della Canabria di unirsi ad Eno, specifico che non c'è nessun impegno economico, si tratta semplicemente di far lavorare i ragazzi sui temi ambientali insieme ai docenti e di postare poi lavori nelle pagine in condivisione internazionale che noi abbiamo appunto su Facebook, quindi chiunque può aderire entrando nel sito. È importante perché per esempio il 22 marzo, che è stata la giornata mondiale dell'acqua, tutti i ragazzi delle scuole del mondo, quindi i bambini indiani, i bambini di Fuscaldo, i bambini americani, i bambini francesi, tutti quanti quel giorno li sono presi cura della terra lavorando sull'acqua. Quindi è una condivisione in contemporanea, in alcuni giorni tutti insieme, i ragazzi di 192 paesi, si prendono cura della terra. È una cosa bellissima che appunto non ha nessun costo perché vogliamo dire che l'ambiente è una questione di cultura, non di soldi, finché saranno i soldi a prevalere sulla consapevolezza che la natura siamo noi, noi siamo parte dell'ecosistema, avvelenando la natura, avveleniamo noi stessi. Quindi finché questo non diventerà il primo pensiero più importante dei soldi, più importante dell'economia ci sarà poca speranza. Quindi è su questo che noi stiamo lavorando. Professor Vetti, siamo in chiusura, come se ne esce? Ma stavo pensando che se ci fosse Voltaire direbbe che questo è il migliore dei mondi possibili, no? Perché a scuola, lo dico in termini ovviamente positivi, che essendo io stesso un docente, essendo lo Stato fino a pochi giorni fa, facciamo il nostro dovere. La magistratura fa il suo dovere quando indaga e indagava anche nel passato. L'ARPACAL fa il suo dovere perché ha una funzione di vigilanza e di controllo. Goletta Verde fa il suo dovere, però la cosa non funziona. Quindi vuol dire che da qualche parte c'è non un piccolo meccanismo che inceppa il sistema, ma un grande meccanismo. E il meccanismo che inceppa il sistema, dal mio punto di vista, è talmente evidente che soltanto un cieco e un sordo non lo vede e non lo sente. Andiamo alla soluzione. Quale può essere? La proposta, no? Perché adesso dobbiamo arrivare la proposta. La proposta è di intanto recuperare il tantissimo che c'è nei cassetti, negli scaffali, soprattutto della Regione. Perché la Regione è stata il ricevente negli ultimi vent'anni di una serie di proposte, di studi. Esiste un piano di tutela delle acque approvato nel 2010, in cui venivano puntualmente individuati i luoghi di maggiore impatto ambientale. Io credo che la Regione manco lo conosca. Esiste un piano regolatore generale degli acquedotti che sono l'origine poi delle fognature, e le fognature sono poi il vettore che porta l'acqua inguinata al mare, del 2008, mai discusso in Regione. Io chiamo al responsabile unico, se non unico principale, di tutto questo malessere nella nostra Regione, la Regione. Non questa Regione, per carità, ci sono da pochi mesi. Mi sento di dar loro il beneficio della fiducia, ma sicuramente l'organismo della Regione che aveva in carico questo problema importantissimo che, come diceva la collega, la professoressa, ne va della vita del pianeta, perché l'inquinamento è un epifenomeno. Il vero problema è l'ecologia come paradigma. Capire che se falliamo in questo, non è che falliamo come Cosentini, Calabresi, falliamo come umanità. Mimmo Vappaderra, siamo in chiusura. Quest'anno cosa possiamo aspettarci? C'è qualcosa alla quale possiamo aggrapparci? Guarda, io l'ho detto prima. Io credo che quest'anno le condizioni potrebbero sicuramente essere migliori, soprattutto alla luce di questo lavoro che si sta facendo. Poi naturalmente è un lavoro che riguarda un tempo medio-lungo, non è un tempo immediato. Se qualcuno pensa che tutte queste azioni possano capovolgere di colpo la situazione, avremmo tutti la bacchetta magica. Qui, come è stato detto prima, il problema è molto più grave di quello che effettivamente qualcuno pensava. I comuni devono fare gli investimenti adesso, avendo avuto finalmente le risorse per poterli fare. Quindi i tempi noi sappiamo che sono abbastanza dilatati. C'è il problema che riguarda, come ho detto prima, la necessità, proprio adesso, ma sarà fatto questo, di smaltire quasi 30 mila tonnellate di fanghi della depurazione. La regione ha fatto un'ordinanza, ha fatto una delibera stanziando le risorse. Mi auguro che questo accada. Noi andremo avanti con le attività, come è stato ricordato prima, di monitoraggio e di controllo. E su questo legambiente sa che il nostro lavoro è un lavoro che si intreccia inevitabilmente anche spesso con quello che fanno loro, ma che è basato anche su un'attività profondamente adeguata dal punto di vista tecnico-scientifico. Io guardo Attilio con moderata fiducia. Ripeto, quest'anno abbiamo preso il toro per le corna che si chiama Tortora Nicotera. Dobbiamo capire, l'ha detto anche il Presidente Occiuto qualche giorno fa in un'intervista a tutte le vostre reti televisive. Se c'è un miglioramento del 40-50% vuol dire che queste azioni cominciano ad assumere, come dire, diventano efficaci. Se non dovesse accadere allora vuol dire che, come diceva il Professore Vertri, il problema è ancora più profondo e andrebbe scavato ancora maggiormente. Però io ripeto, ho moderata fiducia. Non credo che noi avremo una stagione drammatica come quella dell'anno scorso. Spero di non essere rendito, nel senso che ci sono queste azioni, però vorrei, proprio perché tu invocavi prima anche la società civile, che si passasse da un terreno, come dire, non solo di denunce, ma anche da un terreno di collaborazione. Perché quando spesso, come dire, si trovano o si scovano, si vedono anche situazioni ingresciose, non bisogna girarsi dall'altra parte, ma segnalarlo alle autorità competenti, alle capitanerie di Porto, ai sindaci stessi, a tutte le forze, perché solo attraverso questo è il mio punto di vista, un'azione corale. Prima Paolo, scusa Mattino, diceva una cosa giusta, ha elencato tutti i soggetti che più o meno partecipano a questa azione, però il dato ancora è questo. Allora, anche i cittadini, come dire, chiamano una mano a questa azione di cambiamento e di cambio di rotta che si sta provando a fare. Entr'altro ti facciamo gli auguri per superare immediatamente questo Covid, auguri da parte di tutti. Spero che non ci sia avvertito molto. No, 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 benissimo, benissimo. Ok, grazie. Datemi un attimo Anna Parretta, per favore, perché voglio chiudere con lei. Che cosa vi aspettate voi da quello che respirate nell'aria? Allora, più che quello che ci aspettiamo, quello che speriamo e quello che ospichiamo è che appunto la situazione della mala depurazione in Calabria, che come dicevamo prima, diventata cronica e strutturale, possa cambiare per effetto delle iniziative che sembra si stiano mettendo in campo e che appunto non si tratti di dichiarazioni di principio e di intenti come in passato. La nostra Regione ha enormi potenzialità su tutti i piani, a partire da quello ambientale. Le responsabilità e le problematiche che esistono non sono responsabilità del fato, ma sono causate da una mala gestione che si è protratta negli anni che è sotto gli occhi di tutti. Quindi noi speriamo che la nostra Regione possa avviarsi a diventare una Regione verde, una Regione avanzata nella quale si possa vivere e si possa voler tornare, in cui i turisti possano sentirsi accolti da tutti i punti di vista. Quindi questo è quello che noi speriamo. Speriamo che nelle nostre campagne di Goletta Verde dei prossimi anni, insomma speriamo di non trovare la situazione che abbiamo dovuto riscontrare negli anni passati. Quindi un forte appello a tutte le, non soltanto ai cittadini appunto, a denunciare e a muoversi di conseguenza, ma soprattutto alle istituzioni a partire dalla Regione di prendere impegni forti e concreti per la tutela del bene comune. Grazie, grazie per essere stata con noi. Ci sentiremo spesso in questi giorni, più ci avviciniamo alla fase estiva, più avremo necessità di sapere l'Egambiente, come si sta muovendo e quali indicazioni darà ai cittadini calabresi. Grazie al professor Verti, grazie ad Anna Maria De Luca, Luca Chito che ha curato la Regia, ci vediamo mercoledì prossimo, arrivederci.